Prova, 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 1, 2, Dark Souls, 2, no, prima si randomizza, randomizza Io credo che funzioni, quindi qui, ah mi sa che funziona, mi sa che funziona Eh si, vado di qua, si, 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 ci vado, ci vado, lì, c'è un oggettino Eh si, va bene, subito Eh vabbè, devo solo prendere un oggetto, non è che devo fare i miracoli o battere lui che voglio dire, non è così difficile però Via, guarigione migliorata, sì, va bene, intanto qua ora si sceglie la classe, scegliamo qualcosa di... No, vabbè, no, no, scegliamo il discriminato Eh va bene, tutta roba inutile per la run, però va bene Q, no, Q, run, non so scrivere, random Perfetto Discriminato quindi, molto interessante perché così non abbiamo niente e quindi fallo ascetico ovviamente Lo facciamo random, così è in linea con la mod, con la serie Casuale, ecco qua Mamma mia, ancora Ma non cambiano i capelli? Lui, lui mi piace Mi piace lui, ora però i capelli li scegliamo E ovviamente Mi sembra anche logico Facciamo li neri Toh, guarda Eh? Ok Conferma Oh, Dio mio Cominciamo Magari potrò trovare qualcosa di un po' più No, niente Ok Cos'è? Quell'effetto là Quello scudo Quadra... Cos'è? Cos'è? Oh, guarda un po' Per chi non lo sapesse, le regole della randomizer dicono che ti devi mettere tutto quello che trovi Tipo ora la lancia di paint che non possiamo usare Oh mio Dio Perché si para da solo? Ma cos'è sta cosa? Ma è tipo un'auto parata Ma che è? Cosa succede? Aiuto Blocca parata Ah, questo? Oh, è tornato normale Mamma mia Falò Nebbia Nebbia E vediamo Quanto si fa con questa Vabbè Poteva andare anche peggio Non stiamo troppo a sindacale Ok Non è il massimo ma... Oh la storcia Eh ma non l'abbiamo, è vero Faccio un backstab Com'è? Ah, va bene Non andare avanti così a backstab Dove è finito? Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Sicuramente One Two Three Tanto i nemici Sono scemi Quindi non è che Bene Utile Soprattutto a una run del genere Qua muoio Eh, va bene Va bene Ai 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 Vabbè Devo dire che comunque Non male È praticamente Joshua In versione non morto Però Devo... Ah, è lassù No, che palle Vabbè Entra? Niente Via Entra Oh Give a smooth Cosa posso dargli? Niente Nulla Or Bene La mettiamo Qui Direi Tanto non abbiamo niente Oh, che bella Ci metto Sei ore Se mi fermo A combattere tutti Anello d'oro del serpente È buono però Più drop Uh Non male Aiuto Io andrei al falò Guarda Io andrei al falò Non usiamo però Le figie ora Perché Insomma Siamo ancora qui Non serve a nulla Ed eccoci Alla prima tappa Qui Prendiamo Qualche oggettino Siamo arrivati qui E va bene così Insieme del fuoco Non ho trovato Non ho trovato niente No No C'era qualcosa A parte L'uomo Della spadona C'era qualche Aiuto C'era qualche Qualche oggetto Non me lo ricordo più Ah Sì Oh no Dai Dai Iniziata bene Non ho trovato niente No ho trovato niente Non ho trovato niente Grazie a tutti